oggi vi vorrei parlare un po di ramadan sicuramente avete sentito ramadan il mese di digiuno della religione musulmana tantissimi musulmani in tutto il mondo la festeggiano insomma digiunano in questo mese e poi dopo il mese di ramadan c'è la festa il fa'id al-fatar e che vi voglio spiegare un po come augurare magari un nostro amico musulmano buon digiuno e buon neid al-fatar ok allora iniziamo un po a spiegare cos'è il ramadan il mese più sacro per i musulmani perché è il mese dove qualsiasi cosa buona che fai è raddoppiata secondo la loro religione e qualsiasi cosa cattiva è anche raddoppiato al suo senso quindi nel mese di ramadan la gente digiuna del mangiare del fare cose cattive di parlare malamente di qualche persona o qualche cosa quindi è il mese della purificazione e dell'avvicinamento a dio in realtà levando al mangiare le cose fisiche le cose materiali così si avvicina più a dio e si diventa più puri quindi per 30 giorni dall'alba al tramonto digiunano di tutte queste tre quattro cose che vi ho detto e quindi la fanno anche i più piccoli nel mio villaggio la facevano anche più piccoli dieci anni io ero veramente molto sempre mi sorprendo come riescono a farlo a digiunare a non mangiare a non bere niente anche in questo mese caldo perché in realtà l'origine della parola ramadan è il mese più caldo secondo la calendario lunare dei musulmani comunque io sono molto apprezzo e mi sorprendo come piccoli bambini così possono digiunare un mese è una cosa veramente forte uno anche si diventa più forte e per insomma non avvicinarsi alle cose materiali come il cibo è una cosa importantissima bisogna anche sapere che dopo il tramonto loro possono mangiare fino all'alba del della mattina dopo quindi potranno bere e mangiare tranquillamente durante il giorno no ok quindi come si dice digiuno in arabo digiuno si dice saum saum o siam mese si dice in realtà noi diciamo saum ramadan il mese di ramadan o anche saum assaum il mese del digiuno saum saum che saum saum ok quando c'è il quando c'è il tramonto e si finisce di digiunare si chiama iftar vuol dire il finire del digiuno e l'inizio del iftar del mangiare non sbagliare con la parola futuro futuro vuol dire breakfast quindi colazione in un'altra parola che ha un senso in arabo ha un significato molto simile a iftar ovviamente si mangia dove si mangia alla mattina dopo il digiuno della notte quindi questa è la colazione e questo è futuro e poi una parola e star dove si smette di digiunare nel mese di ramadan dopo aver smesso di mangiare tutto il giorno insomma ok quindi il futuro colazione iftar quello del ramadan il smettere di digiunare del ramadan iftar quindi possiamo anche dire iftar mubarak iftar buon iftar no iftar saeed e per augurare a qualcuno buon ramadan in arabo si dice ramadan karim ramadan karim ramadan è il mese di ramadan karim vuol dire è generoso ramadan è generoso a noi ramadan karim ti auguro un buon ramadan ramadan karim è una frase proprio fissa la potete anche scrivere in caratteri italiani ma la potete anche scrivere in caratteri arabi ramadan karim dopo questi 30 29 30 giorni del ramadan viene una festa che è la festa piccola la chiamano perché c'è l'eid al adha che è la festa grande del sacrificio per la regione musulmana e c'è questa piccola l'eid al sagheer la festa piccola sagheer perché è la festa del iftar e si chiama in realtà eid al fitar e si chiama in realtà eid al fitar eid al fitar festa eid vuol dire festa del finire del digiuno eid al fitar per augurare a qualche amico musulmano buon ramadan abbiamo detto ramadan karim e buon festa del fitar si dice eid al fitar said o si può anche dire iid al fitar mubarak ok mubarak vuol dire benedetto d'addio però in realtà said vuol dire felice e possiamo tranquillamente dire eid al fitar said ok io ti auguro iid al fitar said ricordate iid al fitar said con iid al fitar ok e poi per finire c'è un ultimo greeting un augurio per tutte le feste va bene per tutte le feste se la volete usare per iid al fitar va benissimo ok che è col amantum e voi bi khair كل amantum bi khair كل vuol dire ogni il migliani vuol dire anno e voi bi khair bene quindi vi auguro tutti gli anni che state bene come il Merry Christmas come buone feste però va bene in arabia per tutte le feste sia i musulmani che i cristiani non c'è nessun problema e tutti i miei amici musulmani Rammodan Kareem è bellissima Rammodan Kareem Rammodan Kareem quindi io auguro a tutti i miei amici musulmani Rammodan Kareem questo mese tenetevi duro e ce la fate e poi alla fine vi auguro Rammodan Kareem ci vediamo grazie per aver guardato questa lezione مع assalama